Noi dovremo, il 14, essere pronti. Partiremo al 50% ma siamo pronti. Ognuno sceglie secondo le proprie specificità. È ovvio che un professionale, un averghiero, ha delle esigenze diverse dal punto di vista didattico di un liceo. Noi abbiamo fatto questa scelta. Siamo convinti che partire al 50% in presenza, 50% con didattica a distanza, ci garantisca un distanziamento sociale sufficiente all'interno dei locali di questa scuola. Quali sono le criticità principali, le novità che avete dovuto affrontare per la prima volta? Beh, innanzitutto la capacità del sistema di disinfettare costantemente gli ambienti, il distanziamento sociale, per questa la scelta del 50%. Siamo convinti che in una aula come quella che vedete, con 30 alunni alla quarta, quinta ora, sia veramente difficile entrare dentro e fare lezione, anche per una persona che magari ha 60 anni. Voi sapete che oltre il 40% degli insegnanti in Italia ha più di 55 anni. Sono una categoria a rischio da questo punto di vista. Si è trattato solo di riorganizzare gli spazi o ci sono stati veramente interventi strutturali? Ci sono stati interventi strutturali. Tutte le marche, il 5% delle aule non erano idonee. Sono intervenuti gli enti locali, quindi gli enti proprietari, la provincia, i comuni. Da un mese a questa parte, se voi andate in qualunque scuola, vedrete dei lavori strutturali di ampliamento, di aggiunta di aule dove non ci sono. La novità, tra le altre, abbastanza clamorosa è stato lo screening medico per quanto riguarda il personale. Siete stati tra i primi a effettuare questa procedura. Che esperienza è stata? Sì, noi abbiamo, diciamo così, come Associazione Nazionale dei Prestiti, deciso di convenzionarci con l'Associazione dei Medici di Famiglia, questo a livello nazionale, e in alcune regioni, come appunto nelle Marche, queste associazioni di medici sono intervenuti direttamente nelle scuole per fare questi test serologici. È stato, direi, positivo. Noi abbiamo avuto 110 docenti sottoposti a test, 5 sono risultati positivi, nel senso che hanno avuto un contatto con il virus e hanno sviluppato degli anticorpi, però sono stati assintomatici allora e sono guariti in questo momento. Ecco, il lockdown ha lasciato alle spalle, tra le esperienze nuove, quella della didattica a distanza che ha stravolto completamente il modo di approcciarsi alla realtà scolastica. Ecco, si riparte in presenza, ma purtroppo bisogna essere pronti a tornare anche quel passo indietro. Bisogna essere pronti, perché è evidente, ce lo dimostra un po' quello che sta succedendo in giro per l'Europa, in Francia 22 scuole già chiuse per la presenza di alunni che hanno manifestato il Covid, e quindi è evidente che anche da noi, nel momento in cui un alunno si ammalerà di Covid, sarà molto difficile pensare alla chiusura soltanto di una classe, la quarantina di una classe o di una persona o di qualche gruppo di persone, perché il ragazzo gira per i corridoi, va nei laboratori, va al bar, di conseguenza ha contatti con molte persone. Ho l'impressione, e questo non sarà soltanto per il liceo, ma per tutte le scuole, che al primo caso di Covid si chiuderà in quarantena tutta la scuola.